Nome? Massimo. Cognome? Materi. Età? 31 anni. Ruolo? Sono presidente della prima circoscrizione, centro storico e candidato al Consiglio Comunale per queste prossime elezioni di giugno. Perché sei sceso in campo in politica? È stata una bella decisione che mi ha visto protagonista qualche anno fa, ho iniziato a 26 anni, sono sceso in politica proprio perché volevo cambiare personalmente e direttamente alcuni aspetti della mia città. Volevo dare un contributo significativo e con una squadra di amici, una squadra di giovani, nel nostro piccolo siamo riusciti a cambiare molte cose e quindi ad ottenere di conseguenza anche già molte soddisfazioni. Che cosa sei riuscito a cambiare? Noi in circoscrizione ci siamo sempre occupati, visto che siamo un organo legato al decentramento, quindi siamo vicini alla popolazione, alle persone, ai giovani, agli anziani, ci siamo sempre occupati delle cose più piccole. Quindi le strisce pedonali, sistemare i marciapiedi rotti che potevano giustamente causare dei danni alle persone. Abbiamo lavorato su aspetti di piccola identità ma molto importanti per la gente che vive tutti i giorni, che va al mercato, che vive e lavora, si muove nel centro storico. Quindi diciamo piccoli passi per iniziative che comunque hanno la loro importanza. Siamo poi riusciti a fare e riqualificare anche alcune aree, tipo Piazza D'Angene, è stata praticamente riqualificata totalmente grazie all'impegno della circoscrizione e ovviamente all'assessorato ai lavori pubblici. Adesso il nostro famosissimo parco Camana ha ottenuto un grande finanziamento in collaborazione con l'assessorato ai lavori pubblici e l'assessorato all'ambiente. A forza di insistere siamo riusciti ad ottenere anche qui un bel lavoro di riqualificazioni, sostituzione del parco giochi per i bambini, nuove piste ciclabili. Quindi insomma da fattori più piccoli fino ad iniziative di aspetto un po' più importante che non riguardano solo i più piccolini o gli anziani ma anche le persone che si vogliono svagare e quindi avere un po' più di tempo libero per vivere nella propria città, la nostra bella Vercelli. Quali altri temi vorresti che venissero affrontati in futuro? Ma in futuro visto che mi candido apposta aiutato da molti giovani in consiglio comunale ho l'ambizione di volermi impegnare per portare del lavoro a Vercelli. Tanto è stato fatto dall'attuale sindaco Andrea Corsaro, tanto sarà fatto ancora, stiamo correndo per ottenere dei risultati sempre più importanti. Già diverse aziende si stanno insediando nel nostro territorio, i giovani, soprattutto i giovani laureati e i giovani diplomati al giorno d'oggi ambiscono ad avere un loro ruolo sociale e soprattutto trovare un'occupazione. La città di Vercelli per questo sta facendo moltissimo, abbiamo un sindaco che si è saputo muovere molto bene sotto questo aspetto e continueremo a fare questo. Ovviamente per i giovani vogliamo anche creare nuovi spazi di aggregazione, nuove aree dove i giovani si possono incontrare, divertire e trovare nuovi svaghi. Quindi ci lanceremo soprattutto in iniziative dove il giovane verrà visto come protagonista e non solo elemento passivo che vive la città, secondo quanto imposto dall'amministrazione comunale, ma cercheremo di coinvolgerlo e far sì che ogni persona, ogni ragazza, ogni ragazza possa dire la propria idea, possa esprimere la propria opinione e perché no, dare anche dei suggerimenti che sicuramente verranno ascoltati. Ai giovani che scendono in campo in politica che cosa ti senti di dire? Ma i giovani che decidono di scendere in campo in politica innanzitutto faccio un applauso perché vuol dire che dimostrano sin da un'età precoce un impegno che denota maturità. Quindi sicuramente voglio dire continuate, siate perseveranti perché comunque la politica anche affrontata da un giovane può cambiare molte cose nella propria città, per il futuro di tutti i giovani e della comunità. Io nel mio piccolo l'ho fatto, sto continuando a farlo con tante soddisfazioni, ci credo e poi anche un modo per conoscere tante altre persone, per fare del bene alla gente, che è la cosa più importante e per la propria comunità. Grazie.